C'è gente che ha vissuto qualche pezzi e morte, noi ve la riproponiamo perché si fonderà un giorno questa rascita. Guarda che ti mette su YouTube, è venuta davvero su YouTube. Sono un po' di più, quindi sono più seduto a finestrino, ma in centina, ma qualche riparito, e ha salvato solo il soffio di un uomo, ma quando un ventino è schierato, con un po' più di attenzione, ma per i suoi decidi, mi soffrendo la sua decisione. Buongiorno a te! Suonasi, 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 suonasi. Fin da quando ero quarantino, non aveva preso la sua decisione, così risposi dietro il tuo veleno, spesso il violino e cambia direzione. E' stato come solo un bambino, mi accise poco per farsi capire due o tre parole, qualche canzone, la gente si fermava ad applaudire. Suonasi, suonasi, suonasi. Giunta, suonasi, 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 suonasi. C'è ricerque scelte con stancane, senza fare un po' d'attenzione, solo dei motivi per bruciare. E lui, su, so, 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 so. E da questo venire lui, la modifica è un'altra torsione, con un po' di stranke, con un po' di stranke. Non ci sono tre ma per la prossima stazione, non ci sono un po' di stranke. Suona la città, suona Suona la città, suona Suona la città, suona